Storia di Iqbal, capitolo 7 La tomba era una vecchia cisterna interrata sotto il cortile, chiusa da un tombino a grata che guardava sulle scale umide e scivolose che salivano verso la porta di ferro. Non c'era luce laggiù, assicuravano quelli che c'erano passati. Solo qualche raggio di sole riusciva faticosamente a filtrare a metà pomeriggio tra i buchi e le crepe prodotte dal tempo e dalla ruggine nella porta che dava sul cortile. E non c'era aria, si soffocava là sotto. Non respiri, ci disse Salman, che l'aveva sperimentata mesi prima per aver rotto correndo la brocca smaltata a fiori gialli e blu con cui la padrona ci portava da bere al mattino. Ti senti soffocare e credi di impazzire. Quando comincia a mancarti l'aria ti sembra che qualcuno ti abbia afferrato per la gola e ti stringa. E poi c'è il buio. Dopo tanto che stai al buio vedi delle forme strane e dei colori anche, ma non ti aiutano, anzi ti fanno ancora più paura. Io so di uno che quando è uscito era diventato pazzo e nessuno lo riconosceva. E poi ci sono i ragni, disse un altro, un ragazzo che veniva dalle montagne e perciò parlava strano. Grandi così, mostrò il palmo della mano. E gli scorpioni? Sono brutti gli scorpioni. Pizzicano e mordono e hanno il veleno. E poi ci sono le bisce. Non ci sono le bisce, disse Salman sprezzante. Mica c'è più l'acqua. Sì che ci sono, ribadì il montanaro. Io le ho viste. Tu non sei mai stato nella tomba, lo zitti Salman. Meglio che taci. eravamo tutti svegli quella notte, nonostante la fatica e la fame, perché il padrone ci aveva costretto a lavorare un'ora di più, anche dopo il tramonto, e non ci aveva dato la cena. I clienti stranieri erano venuti, ci avevano a malapena guardati, avevano caricato di tappeti, macchine e furgoni e se ne erano andati. Usain Khan doveva aver fatto buoni affari. In genere, dopo la visita degli stranieri, festeggiava con la padrona fino a notte inoltrata. Sentivamo la musica della radio e quella di un altro strumento che si chiamava grammofono, come ci aveva spiegato Karim. Ma non era la nostra solita musica, quella che eravamo abituati a sentire alle fiere, quando gli uomini del villaggio si ritrovavano per vendere il bestiame. Era una musica strana, piena di rumori e non capivamo le parole delle canzoni. Roba straniera, ci aveva detto Karim con aria saputa, roba che viene da lontano. Ma quella volta la casa dei padroni era buia e silenziosa, come una minaccia. La pagherete, aveva detto Usain prima di andare a dormire. La pagherete tutti per quello che ha fatto il vostro amico, perché eravate tutti d'accordo con lui, sono sicuro. Solo un paio di quelli più sciocchi e paurosi avevano provato a difendersi e a dire che no, loro non c'entravano niente, ma erano stati zittiti a pizzicotti. Nessuno ce l'aveva con Iqbal questa volta. C'è troppo caldo, sussurrai. Come farà a sopravvivere là sotto? Sarà come alla fornace, borbottò Salman. Forse peggio. Io non so di nessuno che sia stato nella tomba in piena estate. E voi? Tutti fecero segno di no. Il sole era stato implacabile quel pomeriggio ed eravamo coperti di sudore anche adesso che era notte e ci sentivamo la testa bollire come se avessimo la febbre. Nessuno può uscire vivo dalla tomba in piena estate, disse qualcuno nel buio. State zitti, state zitti, avrei voluto gridare. Accanto a me, Maria e Ali tremavano di paura. Io l'ho visto uno uscire dalla tomba in estate, disse Karim con quella sua voce profonda, quasi da adulto. Cinque giorni, ce lo tenne Usain. È successo tanti anni fa. Io ero piccolo allora, ma lo ricordo bene. C'era questo ragazzo, più grande di me, non so da dove veniva. Gli mancava un orecchio, questo sì, e aveva un'aria feroce. Sembrava un cane di strada e ci faceva paura. Cosa fece? Chiedemmo. Si rifiutò di lavorare, ecco cosa fece. E allora Usain lo frustò. Lo frustò per bene, dovevate vedere. Lui neanche gridò, proprio come un cane. E poi continuò a rifiutarsi di lavorare. E quando Usain si avvicinò una seconda volta con la frusta in mano, deciso a levargli la pelle, ve lo immaginate? Lo morse, lo azzannò a un braccio e non mollava più. Karim sputò per terra, proprio come un cane. E allora il padrone lo mise nella tomba? Cinque giorni ce lo mise. E uscì? Sì che uscì. Lo portarono su a braccia che sembrava morto, ma non morì. Era tutto bruciato dal calore. E la pelle gli veniva via. Rimase una settimana sdraiato sul suo giaciglio. Gli mettevamo sulla faccia uno straccio bagnato. Poi si alzò e cominciò a lavorare. Dico io, tanto valeva che lo facesse prima, no? Comunque non fu più lo stesso. Sembrava ancora un cane, ma di quelli che tengono sempre la cona tra le gambe. Iqbal non farà così, gridai. Cederà anche lui, disse Karim. Cosa credi? Mica è speciale. Sì, pare che si sia sempre ribellato a tutti i padroni che ha avuto. Ho sentito Usain che lo diceva. Per questo lo vendevano sempre, anche se è così bravo. Ma Usain, lui sa come fare. Iqbal non cederà, ripetei, e lo dobbiamo aiutare. Ci fu qualche mormorio di assenso. Aiutarlo, borbottò Karim. Intanto abbiamo saltato la cena per colpa sua. Tu taci, che tanto hai mangiato lo stesso, lo rimbeccò Salman. Io ho conservato del pane. E io ho dell'acqua, dissi. Andiamo. Voi siete matti, gridò Karim. Io vi proibisco. Se il padrone vi scopre, poi se la prende con me. Zitto tu, disse Salman con aria decisa. Scivolammo fino alla porta del laboratorio. Ogni notte Usain Khan la chiudeva con un vecchio catenaccio a tripla mandata. Precazione inutile, secondo me. Dove saremmo potuti scappare? Ma adesso non sapevamo come uscire. Lui ha le chiavi, disse Salman indicando Karim. Apri, svelto. Te lo scordi. Facciamo così. Tu ci apri e vieni con noi. Se il padrone ci scopre, dirai che abbiamo cercato di scappare e che ci sei venuto dietro per riprenderci. Ma se non ci aiuti, parola mia... Ora, è vero che Karim era più grande, ma era un ragazzo, magro e gracile, e non era mai stato molto coraggioso. Mentre Salman era robusto come un torello e temuto da tutti. Karim si grattò la testa, si appoggiò su un piede, poi sull'altro, si guardò attorno come per cercare conforto, non ne trovò, sputò per terra e disse accidenti a voi. Cercò la grossa chiave di ferro nella profondità dei pantaloni, tirò su col naso, fece ancora un po' di scena e poi aprì. Era da poco passata la mezzanotte quando ci ritrovammo all'aperto. Era una notte senza luna, il cielo era nero e pulito, perché raramente in estate ci sono nuvole nel cielo al mio paese e si sentiva appena un filo d'aria muovere le foglie degli alberi. restammo un attimo sulla soglia a farci asciugare il sudore dalla faccia. Chissà com'è là sotto, pensai e mi venne un brivido di paura. Strisciammo carponi fino al bordo in pietra del pozzo, io, Salman e il piccolo Ali che si era ostinato a seguirci. La casa del padrone era buia e minacciosa, sapevamo che Usain Khan aveva un sonno profondo, da bue, certe notti lo sentivamo russare con un frastuono da temporale. Ma la padrona, lei, sentiva qualunque rumore, anche il minimo fruscio, anche il battito d'ali di un uccello notturno. L'avevamo vista più di una volta girarsi nel buio, stretta nella vestaglia, borbottando con aria feroce, scrutando gli angoli del cortile. E se ci scoprono? Dal bordo del pozzo, in due salti, raggiungemmo il riparo rappresentato dal furgone di Usain. C'era odore di benzina e di olio bruciato. Ma da lì, fino alla porta in ferro che conduceva alla tomba, c'era un lungo tratto di cortile scoperto, che passava proprio sotto le finestre della casa. Mi sembrava impossibile riuscire ad attraversarlo senza svegliare la padrona. Ero sicura che in quel momento fosse lì, in piedi, nascosta dietro la tenda come un animale predatore, in attesa che facessimo anche un solo passo. Per un attimo, ma solo per un attimo, pensai forse è meglio tornare indietro. Ma subito mi vergognai. Mi girai a guardare la faccia pustolosa di Salman. Probabilmente stava pensando la stessa cosa, ma sapeva anche che toccava lui. In fin dei conti, io ero una ragazza, no? E a lì era troppo piccolo. Vado, sussurrò dopo aver ingoiato tre volte. Cominciò a strisciare carponi sui gomiti e sulle ginocchia, stringendo tra i denti il fagotto in cui aveva avvolto il pane. Era lento, accidenti come era lento, e poi aveva quell'enorme sedere puntato verso l'alto che chiunque avrebbe potuto vedere, anche al buio, da chilometri di distanza, e continuava a smuovere sassi, strava facendo un rumore incredibile e scomparve nelle tenebre. Nei brevi attimi di silenzio, tra una russata e l'altra, sentimmo ancora un paio di tumf-tumf e poi un lieve sibilo. Vai, dissi ad Alì. Corse veloce e leggero come un gattino, in un attimo non c'era più. Un altro sibilo. Beh, pensai, tocca a te. Uscì allo scoperto, sentendomi debole e vulnerabile. Dovevo strisciare e contemporaneamente reggere con una mano la bottiglia dell'acqua, che a ogni passo minacciava di rovesciarsi. Due metri, forse tre. Era pieno di sassi taglienti che mi stavano massacrando le ginocchia. Buio pesto. Tutto faceva troppo rumore. Il mio vestito, che frusciava contro il terreno. I battiti del mio cuore, che rimbombavano nelle tenebre. Il mio respiro, che diventava sempre più affannoso. Ero proprio sotto la finestra della camera da letto. Mi appiattì il più possibile contro il suolo, con solo la mano destra alzata a reggere l'acqua. Non arrivavo più. Mi avrebbero scoperta. Sarei finita anch'io nella tomba, in mezzo agli scorpioni e alle bisce, perché ero sicura che c'erano anche le bisce. Avevo un bel dire Salman. Andai a sbattere contro Salman e Ali, che mi aspettavano seduti con la schiena appoggiata alla porta di ferro. Ce ne hai messo? Sei stato svelto tu. Dov'è Karim? Ci guardammo attorno. Karim! Provamo a sussurrare. Karim! E Karim arrivò. Vedemmo la sua figura vestita di bianco, alta, allampanata, comparire un po' alla volta nelle tenebre come un fantasma. Camminava normalmente, lento e tranquillo, con le mani nelle tasche dei pantaloni. Ci mancava solo che si mettesse a fischiettare. Sembrava che stesse passeggiando nei giardini del sultano. Ci raggiunse e ci guardò stupito. Mica c'era bisogno di fare tanta scena, sapete? Sta giù, deficiente! La porta in ferro era dura e pesante, con i cardini arrugginiti e bloccati dalle erbacce. Provamo a tirarla e quasi non si muoveva. Più forte, dai! Si mosse di qualche centimetro, poi si aprì uno spiraglio, largo un palmo, e sentimmo il fettore umido e pesante della tomba salire fino a noi. Più forte! La porta girò sui cardini, con uno stridio terribile che spaccò in due la notte. Svelti! Si accese la luce. Restammo immobili, paralizzati, come certi predatori notturni sorpresi dal cacciatore. Sentii le gambe che mi tremavano, incerte se rimanere o darsi a una fuga disordinata. «Scappa!» mi gridò qualcuno dentro la testa. «Scappa!» La mano di Salman mi bloccò il braccio. «Non ti muovere!» si bilò. La finestra della camera da letto si aprì. Un riquadro di luce inondò il cortile davanti. Qualcuno, la padrona, sporse la testa, guardò da una parte e dall'altra. Ci avrebbe visto. Non poteva non vederci. «Ho sentito un rumore, ti dico. Non me lo sono, sognata. Saranno quei maledetti ragazzini!» Da dentro la stanza si sentì un brontolio indistinto. «Tu! Tu non sentiresti neanche un cannone! Vado a controllare!» Altro brontolio, più lungo e più irritato. La padrona si sporse con tutto il busto oltre il davanzale della finestra e guardò nella nostra direzione con i suoi occhi ci sposi. Eravamo là, a venti metri di distanza, visibili come se fosse stato giorno, ne sono sicura, visibili come uno sciame di luciole su una siepe. Me li sentì addosso quegli occhi. E invece non ci vide. Non so perché. Scrutò ancora di qua e di là, borbottò, richiuse rumorosamente la finestra, spense la luce. Aspettammo. Aspettammo per quella che mi parve un'eternità. Un po' alla volta, i battiti del cuore si calmarono e il russare di Usain Khan ci confortò. Scendemmo lungo le scale, ripide e scivolose, in fila indiana. L'aria si faceva sempre più densa e irrespirabile. Ci coprimmo un'altra volta di sudore. Dovevamo procedere a tentoni, cercando di aggrapparci al muro viscido e coperto di muschio. Sentimmo un rumore di metallo sotto i piedi. Era la grata che chiudeva la tomba. Iqbal! Provai a chiamare piano. Iqbal! Karim pescò dalle profondità dei suoi pantaloni una scatola di zolfanelli. Alla luce incerta della fiammella lo vedemmo. Si sollevò a fatica dall'angolo in cui si era accucciato e venne verso di noi. Aveva le labbra spaccate dalla sete e gli occhi così deboli che anche la luce del fiammifero gli dava fastidio. La cisterna, che costituiva la tomba, era larga ma così bassa che alzandosi in piedi si poteva toccare la grata con la punta delle dita. Passai a Iqbal la bottiglia dell'acqua. Bevve avidamente e si versò il resto sulla faccia martoriata. Che strano! Lui aveva la gola troppo secca per parlare e noi, adesso che eravamo là, avremmo avuto mille cose da chiedergli e non sapevamo cosa dirgli. Io ero commossa e confusa e avevo il cuore stretto dall'angoscia nel vederlo in quelle condizioni. Ed era solo il primo giorno. Salman era imbarazzato. Karim aveva l'aria di quello che passava di là per caso e non c'entrava per niente. Ali si sporse attraverso la grata e afferrò la mano di Iqbal. Resisti, gli disse, adesso ci siamo noi con te. Sì, disse io, torneremo tutte le notti. Beh, disse Salman, devo ammettere che hai del fegato. Col cavolo che torniamo, disse Karim, mica voglio rischiare io. Grazie amici, gracidò Iqbal. Aveva la voce come filo di ferro. Naturalmente tornammo tutte le notti.